Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Minecraft finalmente, facciamo anche un po' Minecraft Allora, mi sono portato un po' avanti, cioè... Sono andato nel Nether, mi sono fatto sto piccone, quello di allumite che l'altra volta abbiamo fatto Nell'ultimo episodio abbiamo fatto di tutto e di più per fare l'allumite e questo è il liquido Allora, l'allumite, ora vi spiego bene come si fa Per fare l'allumite ci serviva questo liquido qui, cioè il piccone di allumite ci serviva questo liquido qui Il alluminium, alluminium, questo qui, l'aluminium, morton aluminium brass Con il molten aluminium brass facevamo le... Adesso le cerchiamo, eh Queste... Queste qui, facevamo le cast, queste cast qui, quelle più potenti Però facevamo solo quello normale Quindi, per fare quelle dei vari picconi Ci serviva un... Ad esempio uno di questi Lo piazzavate qui Adesso vi faccio vedere Di legno, eh Lo piazzavate qui Facevate forrescire il... Molten brass... Molten aluminium brass E vi dava la forma della testa Togliamo solo i volumi Ok E... E boh, fate anche così Poi, 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 poi E così vi dava la forma Poi mettevate la forma di nuovo qui E versavate dentro il liquido dell'allumite Così vi dava la testa dell'allumite Che ho adesso Così Attivavate E vi usciva la testa Per farvi vedere Adesso mi farò una bella spada Guardiamoci i libri Che io ho qui Facciamoci una spada Quindi per fare la spada Io voglio la long sword Sword blade E tool... Anzi, no Non possiamo fare la spada Perché io non ho questo liquido Quindi lo faremo in un altro episodio Ve lo farò vedere in un'altra volta Comunque, è così Ora Che facciamo, che facciamo? Ah, sì Iniziamo Con la nuova La Industry Craft 2 Mi sono... Allora, intanto Come avete visto prima Forse non l'avete visto Non mi ricordo Ho fatto una nuova stanza Con queste lampade Stupende E in questa stanza Ci andremo a fare La Industry Craft 2 Allora Per prima cosa Dormiamo Cinque secondi Rieccoci Buongiorno E mi sono preso Questi alberelli Ui, lì è cresciuto Quindi Che adesso vi dico Che fanno Questi alberelli speciali Dove si trovano pure Scheletro Mori Bravo Vedi che quando vuoi Sei bravo Vedi Allora Vedete che ci sono Delle macchie Specie di macchie Qui Queste macchie Quella è la gomma Questi sono alberi di gomma Per raccogliere Quella gomma Bisogna avere Il 3-tap Questo qui 3-tap Come craftare il 3-tap Semplicissimo Prendete il legno O altro legno Vabbè Questo forse Va bene E fate così Questo è il 3-tap Adesso io ce l'ho già Quindi Non ne ho bisogno E Ora vi do un consiglio Tasto destro E vedete che rimane la macchia Voi la dovete lasciare Se no scompare per sempre Almeno così ricresce E potete riprendervelo Allora Cerchiamo 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 Qua E qua E qua Ne dà Casualmente Non Può darne uno Come può darne due Come può darne tre E a random E Ok Ok Andami Questo Questo E se non erro Ne ho un altro qua Perfetto Ne abbiamo raccolti 27 Quindi Molto buono Ora Noi ci dobbiamo fare Un Generatore Generatore Quello lì Questo qui Questo è iniziale Non lo faremo Quindi ci servono 3 refined iron Una iron furnace Una batteria Iniziamo con la Iron furnace Semplicissima L'iron furnace È una delle cose Più semplici Al mondo Ci facciamo Una fornace Come avrete Già capito tutti E poi Il ferro Che Non ho qui Ma ho qui E ne mettete 5 Voila Iron furnace Poi ci serve Una batteria Quindi Tin Ah come avrete visto Ho smistato un po' Le chest Che Dà fastidio Copper E gomma Che io Ho messo Qui Questa È la gomma Quando è cotta Questa no Dovete cuocere Ora vi faccio vedere Dobbiamo farci Questi cavi Ce ne facciamo Un po' Così Ce ne vengono 12 E ci facciamo Questi qui I copper cable Importantissimissimi Allora Così E Redstone E così Abbiamo la nostra Batteria Ora Ci serve Il refined iron Direte Come si fa Il refined iron Bisogna Che cacchio ne so Fare chissà cosa No Questo è il refined iron Ce ne facciamo un po' Che serve sempre Basta cuocere Il iron E boh Avete fatto il refined iron Due E tre Ok Questo ci basta E abbiamo Il nostro Generatore Mettiamo un attimo Il cronometro Voilà Generatore Allora Aspettate One second Orologio E avvia Generatore Generatore Come è bello Generare Andiamo qui Lo Piazzichiamo Qui Ma si Ma si Per ora Piazzichiamolo qui E abbiamo Il generatore Va a carbone E questo Per questo Vi ho detto Che non è Un cronometro Ah poi adesso Che ho Riformattato Il computer Ho rinstallato Cioè Si ho rinstallato Minecraft Ho di nuovo Le force gem Si trovano Più spesso Per fortuna Poi ho preso anche il cobalto Nel nether E anche le gardite Che non so cosa sia Ora ci servono Due cose Allora La prima Le No Il macerator Questo qui No Perché C'è Che Che Allora Macerator Ci serve Un electronic circuit Tre flint Tatatata Un machine block Machine block Machine block Quindi Prendiamoci Iniziamo con Fare Machine block Ne abbiamo Otto giusti giusti Machine block Poi cos'è Un electronic circuit Che È un po' Un casino Cioè Vabbè Un casino No Un casino No È abbastanza Semplice Cos'è L'hanno cambiato Il crafting Si Ah La redstone Allora Redstone E Il refined iron Ce l'ho qui No Ne mettiamo ancora Serverà tanto Tanto Refined iron Tutto qua Forza Ce ne basta uno Grazie E voilà Abbiamo No Ok Il nostro electronic circuit Ora quindi Tre flint Una cobblestone Flint 1 2 3 Cobblestone Dovremmo avercela Voilà Tac No 2 cobblestone Scusate Machine block Electronic circuit Maceratore Questo invece Non va A carbone Non va A corrente Così Ma va A corrente Elettrica Per questo Non abbiamo Generatore Mi sembra logico Il generatore Genera corrente Lo dice In pure nome Ora ci facciamo Invece La Electronic Furnace Electronic Furnace Questa Qui Semplice Semplice Adesso Aspetta Non mi ricordo Sì Iron Furnace Quindi ci facciamo Una Iron Furnace Ehm Papapà Mi sta bloccando Fa Bravo E Questo Abbiamo Iron Furnace Ci serve No Ci serve Un electric Copper cable Ehm Andiamo a cuocere La La gomma Tutta 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 E Sì Ci serve Anche questa Dov'è Ok Qua Così Va benissimo Cos'è Non so Sì Ok Solo Electronic Circuit Poi abbiamo Finito Bastano Sì 456 One Two Free Four Ci serve Altre Copper Cable 3 Voilà Ne abbiamo Fatti Un po' Ehm Ok Abbiamo Il nostro Electronic Circuit Circuit Electronic Circuit Iron Furnace E Due Red Sun E abbiamo Electronic Furnace Ora Una cosa Che è Talmente Importante Che non Ve la dovete Per niente Scordare Non spaccate Questi Due Non Perlomeno Con Il Piccone Perché Diventa O Machine Block O Iron Furnace Quindi è Una bruttissima Cosa Dovete Rifarvelo Però Per raccogliere Bisogna fare Una French Vediamo se Possiamo fare Subito Prototype Sì Perfetto 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 Ah giusto Serve per forza I Chan Allora Chan 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 Lime Pink Grey Light Chan Ok Chan Ora E Jackie Chan Abbiamo Jackie Un 2 E due diamanti Questa È la migliore La French Migliore Se no Vi potevate Far questa Oppure Quella Elettrica Anche Abbastanza Utile Anche Questa Di pronto Ce ne sono Tante Ma Questa È la migliore Quella Che fa Svolge Tutti I lavori Premete Tasto Destro Ed C'è Ritornata E Questo invece potete spaccarlo Il generatore Ora Ci serve Un collegamento Perché non possono passarsi energia Così A minchia Come si suol dire A minchia Quindi facciamoci Tanti altri bei cavi Tutti qui Prendiamoli Lascia in mano E facciamo Così Allora Li colleghiamo Con il copper cable Chiudiamo No 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 Ok Voilà Ora Usiamo il carpone Questi cavi Non esplodono Contenti? Ditemi che siete contenti Ne mettiamo 20 Una ventina Dai Possono bastare 20 Comunque vedete A casa Inizia a prendere un po' di forma Una forma un po' più carina Ok E questo Inizia a caricare Questo è carico E questo è carico Il procedimento è sempre Lo stesso identico Di questi Solo che Li fanno in modo Diverso Ad esempio Il copper Ne mettiamo 10 Che ci serve Tanto Adesso vi faccio vedere Il maceratore è un po' più lento Ve lo dico Perché Una cosa speciale Di questi Cosi Questi Della Industria Craft 2 Che Questi maceratori Electric Furnace Possono essere potenziati Con Un Upgrade Ehm Tattattà Questa qui L'Overclocker Upgrade Ehm Decremenza Process Time To 70% E incrementa Del 160% E E Praticamente Questa sarà Per potenziare Queste dovrebbero essere Tutte cose Che Io non conosco Un po' che parlo Io non conosco Ed ecco il nostro Copper Dust Lo mettiamo qui Anche l'Electric Furnace È veloce Questa Diciamo Vedete Diventa Copper Diverso In confronto All'altro Però Tutto bene Non cambia nulla Comunque E questo è il nostro Primo Generatore Di corrente Nel prossimo episodio Faremo una corrente Molto più avanzata Dove Ne avremo Infinità E Per il nostro Obiettivo Parteciperà Anche il Nether Quindi Ragazzi Per questo Episodio È tutto Se il video Vi è piaciuto Vi invito a mettere Un bel mi piace O A iscrivervi Al Canale Ho anche una pagina Di Steam Ho appena fatto Un gruppo Tutto il link In descrizione E Ci vediamo Un prossimo video E Dove saprete Probabilmente Già cosa Farò Quindi Da Infinity Game Uno È tutto Ciao Aspettate Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti